Il presidente Giorgio Napolitano a Venezia per il Festival del Cina di Venezia a Lido per il film di Scola su Pellini, domani visita la Biennale. Vacanze finite, si torna a scuola, da lunedì anche il trasporto pubblico si adegua, Padova scatta l'orario invernale. Chirurgia protesica della spalla, le tecniche di intervento, confronto tra esperti all'ospedale Sant'Antonio di Padova. Calcio serie B, il Padova ospita il Palermo, il cittadella impegnato sul campo del Modena. Una buona serata, una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati e benvenuti a questa edizione di TV7 TG Nord-Est. Allora quest'oggi è stata la giornata di Giorgio Napolitano a Venezia, il capo dello Stato è arrivato questa mattina all'aeroporto di Tessera, poco prima di mezzogiorno, poi è salito su un'auto diretta a Venezia. In questi due giorni veneziana il Presidente della Repubblica appunto sarà presente alla mostra del cinema, poi domani invece avrà modo di fare una visita alla Biennale d'Arte, all'assenale e ai giardini. Sentiamo il servizio di Alice Bragantini. Ripartiamo va? Riparto direttamente. Il Presidente Giorgio Napolitano a Venezia per il Festival del Cina di Venezia, a Lido per il film di Scola su Fellini, domani visita alla Biennale. Vacanze finite, si torna a scuola, da lunedì anche il trasporto pubblico si adegua, a Padova scatta l'orario invernale. Chirurgia protesica della spalla, le tecniche di intervento, confronto tra esperti all'ospedale Sant'Antonio di Padova. Calcio Serie B, il Padova ospita il Palermo, il Cittadella impegnato sul campo del Modena. Una buona serata, scusatemi, una buona serata. Ben ritrovati e benvenuti a questa edizione di TV7 TG Nord-Est. Apriamo parlando della mostra del cinema di Venezia. Oggi è stata la giornata di Giorgio Napolitano. Il capo dello Stato è arrivato questa mattina, poco prima di mezzogiorno, all'aeroporto di Tessera, poi in auto ha raggiunto Venezia. Quindi l'arrivo a Lido per essere presente in forma privata comunque alla mostra d'arte cinematografica. Domani la visita proseguirà appunto al capoluogo lagunare. Napolitano sarà alla Biennale d'Arte, all'Arsenale e ai Giardini. Alice Bragantini. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è arrivato stamani a Venezia per una visita che si concluderà domani. L'aereo è atterrato all'aeroporto Marco Polo alle 11.50. Il Presidente si è quindi recato a Lido alla mostra del cinema per presenziare la presentazione del film Fuori concorso di Ettore Scola. Domani farà visita alla Biennale d'Arte, all'Arsenale e ai Giardini. Che strano chiamarsi Federico è il documentario di scola dove viene raccontata la vita di Fellini in occasione del ventennale e dalla sua morte. Alla proiezione della Prima Mondiale è seguita in Sala Grande la premiazione del cineasta con il premio Jagger Lecultre Glory to the Filmmaker 2013 dedicato a una personalità che abbia segnato in modo particolarmente originale il cinema contemporaneo. Il concorso di Venezia 70 si chiude oggi con l'ultimo titolo in gara, il franco-algerino di Merza Kalouache. Presentata poi in orizzonti la Prima Neve di Andrea Segre, storia di integrazione e conflitti familiari ambientata fra le montagne del Trentino. Fuori concorso Unforgiven di Lee Sang-il, remake giapponese degli spietati di Clint Eastwood. Nella giornata di domani saranno consegnati i principali riconoscimenti tra i quali l'ambito Leone d'Oro. Adesso cambiamo completamente argomento, vacanze ormai finite, si avvicina all'inizio dell'anno scolastico e anche per i mezzi di trasporto finisce l'orario estivo e inizia quello invernale, è il caso ad esempio di Padova che tra l'altro presenta alcune novità. Vediamo. Vacanze finite e aule scolastiche prossime alla riapertura. Anche i servizi in città tornano a pieno regime, i servizi di trasporto. In primis a Padova, chiusa la parentesi estiva per il servizio del trasporto pubblico locale, si torna all'orario invernale. Il cambio avverrà da lunedì 9 settembre, in concomitanza dunque con la settimana di inizio delle scuole. Bus e tram di APS Holding riprenderanno a circolare col nuovo orario, ma come sempre avviene non mancheranno le novità. Su fronte proprio degli orari saranno anticipate le prime corse del mattino in partenza dalla stazione ferroviaria per numerose linee, la numero 3, la 5, la 6, la 12 e altre ancora. Stessa cosa, dicasi per il metrobus o tram, che dir si voglia. Il mezzo monorotaia partirà per la prima corsa dal Capolinea Sud alle 5.55 anziché alle 6.15, mentre da Ponte Vigo d'Arzare inizierà il servizio alle 6.30 anziché alle 6.50. La partenza della prima corsa dunque viene anticipata di 20 minuti. Sempre per il tram è prevista un'intensificazione della frequenza delle corse negli orari di punta del mattino, con passaggi ogni 5-6 minuti. Orari anticipati dunque e più frequenza. Ci saranno anche delle novità sul fronte dei percorsi, invece, per quanto riguarda i bus. Il vecchio percorso del diretto piazza, che consiste nel passaggio in andata e ritorno per il Tribunale e per il solo ritorno su via Pescarotto-Friburgo. Attenzione poi per quanti sono soliti utilizzare la circolare Arcella, che cambia numero e che da lunedì 9 settembre diventa la nuova linea 21, mantenendo comunque invariati percorso e orari. Viene adeguato il percorso della linea 7, con il transito per via Venezia e istituti universitari, anziché per via Morgagni, via Belzoni e Ogni Santi. Con l'avvio del prossimo orario invernale sarà inoltre possibile acquistare il biglietto con un semplice SMS dal cellulare da inviare a APS Holding, adebitandolo direttamente sul credito telefonico, senza quindi alcuna procedura di registrazione e senza l'addebito su carta di credito, come avveniva invece lo scorso anno. E' trascorso il periodo estivo, quello delle ferie, è anche il momento di fare i bilanci. Oggi siamo andati alle Terme Ugane, nella cittadina di Avano Terme. Come è noto, il settore soffre ed è in difficoltà da diverso tempo. Allora sentiamo com'è andata questa estate 2013. Alice Bragantini. Turismo termale al collasso, soprattutto quello italiano. Non dà cenni di ripresa il fatturato degli albergatori termali di Abano e Montegrotto nel periodo estivo. Anzi, soprattutto nel mese di luglio si è registrato un crollo oltre il previsto, con chiusura programmata di una quindicina di hotel. Diciamo che c'è stato un vistoso calo della clientela italiana, ma soprattutto una scarsa redditività all'interno dell'azienda, perché la gente ovviamente in periodi come questo difficilmente spende e magari come serve a noi fa dei trattamenti extra oltre alla mera pensione completa. Comunque siamo fiduciosi che adesso la stagione in qualche modo si possa riprendere perché sono mesi buoni quelli che vengono, quindi settembre, ottobre, novembre. Quindi guardiamo sempre positivamente a quello che verrà. Diciamo presenze, non c'è stata una forte diminuzione, diciamo quindi che si attesta sul 2-3%, sui fatturati andiamo dal 10% al 20%, quindi assolutamente un calo importante. Consumatore italiano dunque sempre meno incline alla spesa, che nel caso in cui si conceda il soggiorno termale magari rinuncia ai trattamenti extra. Gli albergatori poi lamentano la mancanza del cliente nuovo, non c'è infatti ricambio generazionale. C'è un'ottima collaborazione anche col comune in seno ad una programmazione che vogliamo creare temporalmente più ampia, quindi dei progetti triennali, in modo tale da risolvere quel lannoso problema del nostro territorio che andava ad effettuare dei progetti a spot, quindi adesso siamo d'accordo con l'amministrazione comunale anche attraverso la risorsa della tassa di soggiorno di mettere in piedi dei progetti che possono avere una continuità e che possano creare un territorio che sia veramente vincente e che sia conosciuto a livello nazionale e internazionale. Adesso parliamo di salute, parliamo di chirurgia, di chirurgia protesica della spalla. L'ospedale Sant'Antonio di Padova sta ospitando un convegno, un incontro, confronto per affrontare appunto i temi di questa disciplina e anche diciamo così mostrare quelle che sono le eccellenze dell'ortopedia padovana del Sant'Antonio. Vediamo. La chirurgia protesica della spalla e le tecniche di intervento sono le tematiche affrontate nel convegno medico organizzato all'ospedale Sant'Antonio di Padova dall'equip del professore Candiotto e direttamente seguito dal responsabile scientifico il dottor Vittore Costa. Si tratta del primo di una serie di momenti di formazione e confronto tra medici con lo scopo di mettere in evidenza l'eccellenza del settore ortopedico del Sant'Antonio di Padova. È un nostro desiderio, un nostro obiettivo, oltre che fare i medici, i chirurghi e visitare i malati vogliamo dimostrare scientificamente quello che facciamo e vogliamo confrontarci con altre esperienze di livello riconosciuto per vedere se la strada nostra è quella giusta o se va corretta in qualche modo. Il confronto conclude un percorso che è dettato da varie fasi, l'approccio con il paziente, la valutazione del paziente, l'indicazione terapeutica, l'esecuzione dell'intervento, la gestione poi della fase post-operatoria. Questo convegno si inserisce in una serie di incontri per medici e specializzanti voluto con il preciso intento di essere un momento di confronto e di condivisione. Beh, allora, imprescindibile il saper fare dal saper dire, far conoscere le proprie capacità a quelli che poi saranno gli obiettivi del nostro saper fare, che sono i malati. Però l'altra cosa che a noi preme è saper creare, fare un punto di riferimento anche ai colleghi che magari non hanno la possibilità di avere la tecnologia e le strutture che noi abbiamo qui al Sant'Antonio. Quindi essere un punto di riferimento anche per la formazione, che può avvenire anche con costi contenuti senza dover fare grande clamore. Però l'importante è che, come in questo caso, come nel caso del 13 settembre, la facolti, ovvero i colleghi che vengono anche da fuori, dai centri grossi, siano delle persone molto qualificate, esperte e specialisti in quel settore della chirurgia ortopedica che noi affrontiamo come oggi nella spalla e come il 13 poi per il ginocchio. Adesso parliamo invece di un appuntamento che si tiene a Padova, che ormai è diventato di richiamo a livello nazionale. Dal 13 al 15 settembre, infatti, la Città del Santo sarà invasa dal profumo vintage del festival, che ormai a livello internazionale porta alla città visibilità e grande lustro. Sono moltissime le iniziative collegate, in particolarità quest'anno c'è un piccolo prezzo per entrare. Sentiamo. Da venerdì 13 a domenica 15 settembre torna il Vintage Festival al Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova, dove troverà spazio la quarta edizione di un festival che cresce di anno in anno. Il passato in HD è lo slogan del 2013. Riappropriarsi del passato e ridefinirlo, stimolare una visione del futuro più nitida, colorata e ricca, per uno sviluppo sostenibile e costruttivo. Quattro anni fa l'amministrazione comunale ha creduto subito a questo festival e ad oggi orgogliosi di come sta crescendo. Oltre ad essere un servizio per tutta la città è anche un'occasione di promozione per il territorio. È una manifestazione che è cresciuta nei corsi degli ultimi tre anni, è diventata un successo clamoroso lo scorso anno con oltre 50.000 presenze. Noi immaginiamo già che quest'anno sarà ancora più di successo. Grandi sponsor testimoniano anche il sicuro interesse che avrà. Il fatto che tiri migliaia di ragazzi per noi è un motivo di grande soddisfazione perché credo che queste diventino anche occasioni di crescita economica della città. Come di consueto collezionisti ed espositori occuperanno l'ampia location del Lago Rà, circondati da mostre d'arte e design, incontri culturali e workshop con ospiti illustri del panorama culturale e dello spettacolo italiano. Diciamo che le novità potrebbero essere anche gli appuntamenti collaterali al Vintage Festival che sono la Tweed Bike, quindi una pedalata vintage, quindi con abiti in stile e biciclette retro che si svolgerà domenica mattina dalle 11 davanti al San Gaetano per 5-6 km. Poi abbiamo gli eventi collaterali sempre il Dopo Festival, quindi il venerdì 13 qui davanti al Caffè Pedrocchi. Avremo il Rock & Roll Circus Experience che è uno spettacolo dentro lo spettacolo, quindi innumerevoli artisti, cantanti da Mauro Ermanno Giovanardi, abbiamo il Lombroso, abbiamo il Genio, che interpreteranno tutti i pezzi comunque dagli anni 60 agli anni 70 agli anni 80 rivisitati, quindi dai Beatles a Lucio Battisti, dalla musica italiana a musica straniera. Anche questo è un appuntamento molto interessante. E adesso torniamo nuovamente ad Avano Terme per parlare di un appuntamento invece imminente, e quello con la notte rosa. Non siamo alla prima edizione, oggi è stata presentata anche la madrina della manifestazione. Per noi c'era Alice Bragantini. Abano e Montegrotto si tingono di rosa in questi giorni, in occasione della notte rosa delle Terme. Fino a sabato la festa coinvolgerà i due comuni e proprio nella serata finale ci sarà il momento clou, il taglio del nastro da parte del giornalista sportivo Rai, Giampiero Galeazzi. Madrina d'eccellenza Francesca Lukasic, presentata alla stampa questa mattina. A settembre per noi è un po' un'apertura, poi si andrà verso dalla notte rosa alla notte nera, alla manifestazione legata alla magia, al Natale, quindi si ricomincia, un nuovo ciclo che parte e non finisce mai. Adesso siamo preoccupati, concentrati su questa manifestazione, sono previste più di 100.000 persone, quindi questo ci mette anche in uno stato di agitazione. La cosa bella è vedere tutta la città in fermento, dal cittadino al commerciante, l'albergatore, l'esercente, tutti che vogliono preparare e avere qualche cosa di rosa. Si inizia dalle ore 6 con l'inaugurazione, siamo riusciti anche ad avere, grazie alla presenza di Galeazzi, le reti televisive nazionali, quindi anche da Rai, Mediaset, una soddisfazione perché l'attenzione è difficile avere, tutte le tv locali, quindi quello che a noi interessa è che nasca anche questa rete di comunicazione, perché Abano e Montegrotto sono le città più importanti d'Europa sotto il profilo termale, sono città internazionali e tali devono essere, avere questo ruolo. Gli eventi interesseranno praticamente tutte le vie. I momenti più importanti si vivranno al Parco Urbano Termale di Abano, dove saranno presenti i ragazzi di Amici e i comici di Zelig, in Piazza Repubblica con i Sismica e al Centro Congressi Pietro D'Abbano con la mostra dell'artigianato. Bene, adesso ritorniamo ai fatti della cronaca della giornata, come sempre quelli più importanti li abbiamo riassunti nelle brevi di TV7. È stato ricoverato e sottoposto a un piccolo intervento chirurgico all'ospedale di Mestre, l'assessore regionale alla mobilità Renato Chisso, che nel corso della notte era stato colpito da un forte dolore al petto mentre era a casa. Al pronto soccorso i medici avrebbero diagnosticato i sintomi di un infarto disponendo il ricovero. Poi l'esponente del PDL è stato operato con la tecnica dell'angioplastica, a quanto risulta non corre pericolo di vita. E sempre grave in prognosi riservata, il professor Luigi Zanesco, fondatore della città della Speranza di Padova, rimasto vittima di un grave incidente ieri pomeriggio sulla nuova statale del Santo, in territorio di Cadoneghe, operato, gli è stato sportata la milza, ha una lussazione, una vertebra ed ematomi vari. Se solo 15 residenti stranieri su 100 in provincia di Treviso fossero nati in Italia e minorenni, con in vigore il principio dello IUS soli, sul territorio si conterebbero almeno 15.000 italiani in più. È il calcolo fatto per oggi da Anolf Cisle di Treviso, che ha illustrato il decimo rapporto del dossier elaborato in collaborazione con la Caritas. L'assessore regionale Roberto Ciambetti ha presentato, insieme con Susi Bledi e Patrizio Roversi, il progetto Pigafetta 500, consegnando la bandiera del Veneto all'occupaggio dell'Adriatica, la barca Vela, che accompagna i velisti per caso nelle loro avventure, che domani salperà dall'arsenale di Venezia per circumnavigare la terra, ripercorrendo la rotta di Ferdinando Magellano. Sarà un weekend all'insegna del rientro definitivo, quello compreso fra oggi e domenica, con flussi di traffico ancora elevati ma senza congestioni sulla rete di autovie venete. In particolare domani si prevedono disagi con possibili code nel tratto compreso tra Villessa e La Tisana, in direzione Venezia e in quello fra Porto Gruaro e Venezia Est. La situazione relativa ai casi di West Nile registrati in Veneto è assolutamente sotto controllo, non si discosta di molto da quelle registrate negli scorsi anni, lo sottolinea l'assessore regionale della sanità Luca Coletto, intervenendo per puntualizzare la reale situazione. Bene, adesso è il momento di vedere come ha chiuso la settimana in borsa, vediamo TV7, TG Economia. Piazza Fari quest'oggi chiude in terreno positivo, indice Fuzzemibio in chiusura più 1,21%, i titoli migliori Enel più 4,65%, Enel Green Power più 3,11%, i peggiori Autogrill SPA meno 2,13%, Salvatore Ferragamo meno 1,23%, lo spread oggi a 255 punti. Vediamo adesso com'è andata per il mercato dei cambi, euro scambiato oggi ad 1,31$, a 0,84 sterline, a 130,38 yen, a 1,23 franchi svizzeri, la quotazione del petrolio 115,98 dollari al barile, l'oro 1,387,65 dollari l'oncia. E adesso è il momento di parlare di sport, parliamo di calcio, della serie cadetta che torna in campo e allora sentiamo qual è la situazione in questo servizio che ha preparato per noi Elisabetta Corazza. Si gioca di domenica la terza giornata di Serie B, esclusi i due anticipi di sabato. Impegno in trasferta per il Cittadella che scende in campo alle ore 15 con il Modena. Si affrontano così due squadre in cerca rispettivamente della prima vittoria del campionato, con i Veneti impegnati più che mai a sfatare il tabù dello Stadio Braglia, che non li ha mai visti vincenti se non nelle gare disputate in orario serale. Ma la sfida del Braglia mette anche uno di fronte all'altro i due tecnici di cadetteria che vantano il maggior numero di presenze nella categoria. Da una parte Walter Novellino, con 253 partite alle spalle. Dall'altra il tecnico Veneto, con 250. Partita di cartello per il Padova, che dopo il blackout dell'impianto di illuminazione dello Stadio Braglia, gioca in casa alle ore 20.30 con il Palermo. In una partita quanto mai delicata per il tecnico avversario Gattuso, la cui panchina è già in bilico dopo la sconfitta e il pareggio rimediati nelle prime due giornate. La BIA ci ha abituato ad avere partite quasi tutte importanti fin dall'inizio, anche perché le squadre hanno le loro aspettative, alcune altissime. Io ho detto all'inizio, ma non pensavo di aver detto una cosa particolarmente originale, che 21 squadre sarebbero scese in campo contro il Palermo pensando di giocare una finale. È normale, la squadra più ambiziosa, la squadra meglio attrezzata dal puntista tecnico, ma il campionato intanto è lungo e alla fine di 10 mesi, 470 partite o 462, i valori tecnici emergono inevitabilmente. Bisogna avere pazienza, bisogna applicarsi e bisogna non sottovalutare un campionato che è irriverente e irriguardoso. A pochi giorni dal match, Mr. Marcolin blinda i campi di Bresseo dove si allenano i biancoscudati. Sicuri assenti dell'incontro saranno Melchiorri e Modesto, nonché lo squalificato Legati e i nazionali Jelenic, Lazco e Voltan. Bene, siamo in chiusura, ma prima di lasciarvi come sempre spazio alle previsioni del tempo, allora Giuseppe De Vitis per il meteo. Vediamo. Eccoci qua, un saluto a Giuseppe De Vitis. Ieri abbiamo parlato della media termica registrata nel mese di agosto, quasi ovunque abbiamo avuto temperature al di sopra della norma, oggi invece parliamo della pioggia. Guardate, quasi ovunque piogge oltre la media trentennale, solo proprio sul nord-est abbiamo avuto un meno 6%, guardate però la Sicilia, più 168%, ma anche in Sardegna abbiamo registrato piogge abbondanti, proprio le due isole maggiori sono state le maggiori zone bersagliate dal maltempo. Intanto per la giornata di sabato pochi cambiamenti, solo qualche nuvole in più su zone attorno ai rilievi alpini e prealpini, in particolar modo tra il tardo pomeriggio e la prima serata. Guardate, in Emilia-Romagna, su zone pianeggianti del Veneto, ma anche del Friuli Venezia Giulia, cielo prevalentemente sereno per tutto l'arco della giornata, venti deboli generalmente orientali. Vediamo le temperature minime, sono aumentate un po' rispetto a giorni scorsi, comunque temperature accettabili, quasi comunque al di sotto dei 20 gradi centigradi, temperature massime invece comprese tra i 26 e i 31 gradi. Bene, grazie allora Giuseppe De Vitis, siamo in chiusura, adesso come sempre prima di salutarvi vi ricordo i contatti con la nostra redazione, ci aiutiamo con le grafiche, allora i contatti telefonici 049 807 7754, ricordiamo l'indirizzo mail, redazione chiocciolatriveneta.tv, ricordiamo anche che potete seguirci tramite rete, su Facebook e Twitter, e sul nostro sito, gruppotv7.com. A proposito del sito, ricordiamo che siamo in streaming, dunque avete la possibilità comunque di seguirci anche tramite rete, collegandovi al gruppotv7.com. Siamo in streaming anche sulle pagine Facebook delle nostre trasmissioni, TV7 Match, Tutti in Campo, e TV7 alle 7. Bene, con questo è tutto, mi fermo qui, grazie per essere stati con noi, per averci seguito, vi lascio adesso alla nostra programmazione, vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.